Juve senza Europa, come cambia il calciomercato, meno partite, meno giocatori, solo offerte scudetto. Mangia Lukaku. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Nessuna conferenza è una multa di 10 milioni di euro, 20 in caso la Juve non rientri nei limiti. Una perdita che poi si espande economicamente dopo il licenziamento già scontato nella prossima Champions League e la necessità di registrare più 120 milioni tra risparmio e saldo positivo del mercato dei trasferimenti. Ma anche un calendario che è brillante, molto, giocare in conferenza significa pianificare una stagione con un minimo di 2, in realtà 8, il preliminare non può essere considerato un ostacolo, che un massimo di 17 partite in meno. Con solo il campionato è la Coppa Italia da gestire in una stagione che prevede già solo un turno di mezza settimana di Serie A, tutto cambia anche in termini di formazione della squadra, poi il mercato, una squadra superflua di 25 partenti per essere chiari, soprattutto se si può toccare la prossima generazione. Invece, mira ad aumentare il livello di giocatori che dovranno comporre la spina dorsale di una Juve condannata, cioè vincere o almeno provare. E il compito di Cristiano Giuntoli è complicato, si rafforza allo stesso tempo, serve una Juve sostenibile, serve una Juve più forte. Sostenibile, primo, cedere. Licenziamenti certamente, anche se non facile. Anche il grande che è stato a lungo identificato come dispensabile, Sduzan Vlaovic più di Frederick Churchill o Gleason Bremer. E più prestiti del previsto sul fronte giovanile, meno partite significa anche meno spazio per chi doveva completare la squadra. Poi si accelererà fino all'uscita della scena, elementi come Coni De Winter e Fabio Miretti o Andrea Cambiasso. Più forte, ma la Juve deve essere più forte. Giocare da soli in Italia non può essere separato dal cercare di tornare alla vittoria dopo tre anni di delusione in campionato e due senza trofei. E ad Allegri pensiero, anche lui sposato da Giuntoli, una Juve più forte sarà una Juve con Romelu Lukaku, di ritorno dagli Stati Uniti ecco il blitz in programma solo a Londra.